Su tematiche... Geronimo, 26 anni è un problema con l'arco. E un amore eterno. No, al di là delle tematiche che poi si andranno a delineare anche a seconda degli interessi che muoveranno le persone che compongono la fabbrica, la cosa fondamentale secondo me è soprattutto creare una narrazione sul territorio attraverso le metafore che useremo per fare eventi o qualsiasi tipo di iniziativa per far vedere quale sarebbe l'alternativa a un governo provinciale, regionale, comunale o nazionale dal nostro punto di vista. Quindi fondamentalmente raccontare e esprimere al più possibile qual è la nostra idea di cambiamento in un'attività quotidiana. Io sono Dino, sono nuovo, però parlo senza problemi perché ho un'idea abbastanza chiara, sono di Bari, conosco un po' tutti quelli che hanno fatto nascere questo momento giù, però dopo i miei anni più che legarmi al carro sono un po' legato al territorio. Penso che il tentativo di creare, o meglio il tentativo, la realtà sono messo in piedi tra un gruppo di persone che ragionano per lanciare sicuramente dei messaggi, ma secondo me soprattutto per costruire una massa di pensiero collettivo che si esprima possibilmente attraverso la creatività che poi ha fatto quello di cui mi occupo a livello professionale, sia la lezione più bella che sia arrivata dall'esperienza pugliese, tutto il tentativo di trasformare la rabbia che tutti quanti noi abbiamo, più o meno per come vanno le cose, invece di una forma di espressione creativa che raccolga anche quanta più gente possibile al di fuori di certi steccati di vecchio stampo partitico, però all'interno di steccati ideologici che siano abbastanza chiari, con un obiettivo preciso, perché comunque a Milano ci sono le elezioni l'anno prossimo comunali e non penso che si debba, la politica si fa anche con un obiettivo abbastanza chiaro di esprimere delle opinioni, di presentare dei programmi e possibilmente anche di avere la possibilità di esprimere dei candidati che all'interno delle istituzioni non li portano avanti.